Io ti picchio tutu Ma che fai Me lo piglio sempre nel culo Non potrei scappare così a lungo donnina Questa modalità su parco giochi fa veramente scassare dalle risate Guardatevi tutto il video e trovate durante il video il momento in cui ho fatto un trickshot assurdo Lasciate tanti mi piace se volete vedere altre modalità su parco giochi Ciao ciao Animale animale bentornati in questo nuovissimo video Prima che inizi vi volevo dire una cosa davvero davvero figa di cui sono molto orgoglioso Mi sono sempre piaciuti i videogames e questa volta su League of Legends finalmente ci sarà il nostro logo Sono stra felice e per tutte le persone che lo vorranno scaricare il link comunque si trova in descrizione Potrete avere anche voi gratuitamente questo logo Basta seguire due semplici passi Sempre in descrizione ci sta questo link dove vi apparirà questa schermata Vi basterà inserire il nome del vostro evocatore quando create l'account In questo caso io sono non sono In questo caso sono ma non sono Insomma mi chiamo non sono anima Quindi io faccio entra Mi viene scritto un codice che devo copiare E poi vado all'interno del gioco Una volta arrivati qua vi basterà semplicemente andare qua nel negozio in alto Dove ci sono i dindini Premere qua su account Fare riscatta codici ed inserirlo dentro Fate paga ora ma ovviamente è gratis E guardate un po' qua Premete qua in alto sulla vostra icona E boom Icona mates E si spacca tutto Ah chiaramente non vi darà dei vantaggi in gioco Ma sarete comunque molto molto fighi Se siete dei veri animali animale Dei veri fan dei mates Scaricatevi il gioco E giocate con la nostra icona Perché non solo sarete fighi Ma potrete essere anche scelti Per un evento che si darà ad inizio settembre A Milano E potrete giocare con noi Taggateci su Instagram Utilizzando l'hashtag LOL4Mates Facendoci vedere nella foto Che avete scaricato il gioco E siete appunto con l'icona dei mates E per l'appunto potrete essere scelti E spaccare tutto in un evento divertentissimo Buona visione BOOM Foglia E per tutti ragazzi e ragazzi Sono Anima E bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo tornati su Fortnite Ma in una specie di modalità Creata un po' da noi tra virgolette In realtà l'ho preso da un video di YouTube So che l'ha fatto anche Jumpy Tech E oggi noi quindi lo replicheremo Ma insieme ai G1 Ma non era questo il ballo Che abbiamo studiato da un mese Non era questo Eccolo qua Oggi siamo tutti i veri amici Best Friends Perché giocheremo appunto A una specie di Non è nascondino Diciamo è un po' Acchiappa la preda È un po' come se fosse una cosa horror Che io sono Diciamo il bagnino stupratore E loro sono le tre donzelle Che io devo Ammazzare Diciamo che ormai nel 2018 Su Fortnite è così Che si conquistano le donne Ammazzandole Loro sono one shot Quindi con un colpo Soltanto muoiono Non hanno armi Devono soltanto scappare da me Hanno cinque minuti Per diciamo Sopravvivere Ma anche se dovessero morire Possono tornare a giocare Quindi a continuare a scappare In cinque minuti Chi dei tre Morirà meno volte da me Diventerà lui Il cacciatore Anche se così possiamo dire Quindi possono solo scappare In tutte In tutte le porte E cercando di non farsi ammazzare da me Ovviamente io ho un fucile alla caccia Quindi è l'unica arma Che posso utilizzare Per rincorrerli Come potete vedere C'è un 7x7 di metallo Siamo apposta nel cimitero Quindi diciamo È anche un posto adatto No ragazzi Per giocare Ad ammazzare le persone No? Grazie per la risposta Grazie per la risposta ragazzi Siamo già morti Siamo già morti Ma è una domanda Ti puoi mirare No io devo giocare in noscope Dove giocare in noscope Andatevi a nascondere Perché a 26 preciso Inizia il gioco Andate andate Forse ci sarà anche la ripresa Diciamo del replay Così che Si possa vedere anche Delle riprese dall'alto Che ci stai Fanno ridere No no Vattene Io ho già la tomba Per voi qua Poi si parte Attenzione Oh Una palla da basket Io non le richiedo Le porte Ve lo dico Sono cazzi vostri Le richiudete voi Ma dove siete? Oh Sento muovere Ah se qua non ci sono No ragazzi Vi siete dimenticati Una porta Ok L'ho fatta io Non mi ho visto Non mi ho visto Come non ti ho visto Oh bello Dove sei? Sento i passi Dove Aku Io non mi trovo Dove siete? No Via 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 Dove sei? Ah Ah Il bagnino stupratore L'abbiamo visto Corri Corri Come non ti ho visto Dove sei? Sento i passi Ti sento Vieni qua Bella donnina Dove sei? Cosa ci faccio? C'è un cia Giangli Ciao Tiè Peccati questo Io l'ho ancora vivo Rientrate appena tornate giù in gioco Mamma mia Sto di nuovo dentro Dove sei piccolo Aku Tu sei From Nigeria Dove è la mia caccia nera? Dove sei? Dove sei? Dove sei? No L'ho mancato Non ti riesco a prendere 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 No Conciò i cento di vita Vai vai Appalza Mi appalza Mi appalza di Nooo Dovete farvi del male Prima di entrare in gioco Hai ragione Hai ragione Hai ragione Aku dov'è? Eh Aku è figo È figo È figo di una minata Aku te l'ho morto Via Ma dove siete? Non mi vedo Ma dove cazzo? Ma cosa urlate? Urlate non ho visto nessuno Cosa è successo? Dove cacchio siete? Ho visto Eccola Eccola Ho visto la mia amica Nigeria Dov'è? A me non vedrò mai Oh l'ho visto L'ho visto L'ho visto Non puoi scapparmi più No Non portare da me Aku è in pezzo De me Oh L'ho visto Si Framna Giri Fratello Ti picchio Tutu C'è ancora un minuto Aspetta Sento dei passi Sento dei passi L'ho visto C'è una sfiga Che veramente Se ti rimbalza Il cazzo Ti rimbalza Anche No Ma come Imbalzo No Sulla porta No Dove sei? Oh Non l'ho trovato Otto secondi Dov'è andato? Eccolo Matalo Ormai ti devo ammazzare Ok Facciamo il resoconto Delle kill Io ho tre volte Sono morto Allora deve farlo Aku Deve farlo Oh Tocca fratello Aku Eh si è passato altre volte davanti ad Aku Non l'hai mai visto Ma perché voi Quando urlavate Io non sentivo più i vostri passi Quindi Quindi non sapevo più dove andare Perché non capivo dove mi nascondevate Vai andiamo Abbiamo 30 secondi per nasconderci Andiamo Vai 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 Aku non mi vede Sento Sento un po' di odore Cosa? Non mi sento pronto Non mi sento pronto Manco io Arrivo Pampini Arrivo Pampini Oh cazzo L'ore sta venendo L'ore L'ore scappa Mi sento E dai La prima morte La prima morte non sono io Animate lo porto da te No chi sei di? Oh No Dov'è fatelo anima Aaaaa Aaaaa No Arrivo Aaaaa 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 No Aaaaa Perché sei infame Vincenzo Il bagnino Paura non ne ha Dai ora Ora sono Aspetta Aaaaa Aaaaa Alimento Oh Aaaaa Aaaaa L'Italia He Squisito, vieni qui da papà Squisito Siamo vicini di casa, Anima No, non glielo, devi stare zitto Anima! Ha detto che siamo vicini, ha detto che siamo vicini, prendilo! No! Vieni qui, Vincenzo! Via, 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 via! No, dai! Ma che parlo! Ma vieni, anima vicino! Ma c'è uno che balla fuori! Io non so ancora entrato, non posso entrare in giro qua! Ah! Mi ha visto, mi ha visto! Uh! Vai, 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 vai! No, ti hai perso, ti hai perso! Mi sono incastrato! Ah! Mi hai perso! No, no, no! No! Non l'hai visto! Non l'hai visto! A me non l'hai visto lui, com'è possibile! Comunque è finito il tempo, mi sa, eh! Sì, sì! Allora, io sono morto due volte! Io sono morto tutte le volte! Che vuol dire? Ah! Che vuol dire? Quindi devo rifarlo io! Tan-tan-tan-tan! No, beh, ragazzi! Cioè, questa modalità assolutamente va riempito di mi piace questo video per fare un'altra roba del genere! Come bonus di ultima partita, visto che sto facendo di nuovo Yoll Myers, vi faccio usare le salterine, le potete piazzare nel centro! C'è uno di voi tre ce l'ha! No, io no! Avete trenta secondi, andate! Io parto fra tre, due, uno, via! Io sento la palla da basket, raga! La sento tutta! Tutte insieme, non le valido! E tante ci vuole sempre lui! Sempre io ci vuole! Ah! Ah! Però hai aperto la guarda sbagliata! Vieni qua, bello! Ah! Dove c***o sei? Ma tu sei... Sei una lince! Non riesco a ricaricare! Ah! Non portarlo da me! Ah! Basta! Non riesco a colpirti! Sei un jaguaro! Ah! E attenzione, il signor Haku! No, no, è Lorenzo! Ah! No! Occhio, occhio, Regniz! Oh! Mi è passato di fianco! Me lo piglio sempre nel fuoco! Inizio a fare male! No! L'ho visto, l'ho visto! L'ho visto! Chiuditi, chiuditi! No! No, no! Maledetto! Maledetto! Oh! Come fai? Avete preso delle skin maledette! Algo te la porto da te! No, no! Via, 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 via! Vieni qua, bella donzella! Io non riesco... Non riesco a prenderti! Sei una cazzetta! Io non ti ho visto! È impossibile! Per favore, uccidilo! No! From Nigeria! I will run too fast for you! Io lo sento che sta chiudendo porte! Aspetta, ma uno sta ballando qua! Amazing dodging! E prova ce l'ho a prendere! Mamma, yes! Di merda! Vai un po'! No! Mi trollano, raga! Oh! Oh! Guarda come ha addoggiato! Oh! Oh! Da 10 metri! Attenzione! Dove sei andato? Ti ho perso! Ahahahah! Ahahahah! Ma sei sempre nel gesto! Io un attimo ti sono scappato! Tu prima mi sei scappato, maledetto! Via qua, maledetto! No, no, no! Per favore, essere bravo! Pagare le tasse di un po' Cristiano! Oh! Oh! L'ho messa! L'ho messa per scappare! Non potrei scappare così a lungo, Donnina! Mamma, 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 mamma! Oh! No! Sei uscito! No! No! Io dentro! No! Ma che cosa? Io non ero ancora entrato! Oh mio Dio, con la saltarella è tutta un'altra cosa! Non potete star lì! Oh! 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 In volo! Vi piace così tanto la saltarella che adesso vi faccio le trappole, sapete? Oh! Oh! Non sei morto! Vieni qui! Fermo! Sta parando! L'ho ucciso, l'ho ucciso! Oh! Pensavi che non lo sapessi! Ma nonò 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 ma nonò! Oh! 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 Oh di nuovo! In volo! Non mi ha visto! Ah no! Mi ha visto! Mi ha visto! Dove sei andato? Maldito! 5 chi è che è morto più volte io 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 vabbè balliamo animali e animale questo video può concludersi qua questo è stato diciamo il nascondino horror se così possiamo chiamarlo nascondino mortale che abbiamo fatto insieme trovate i canali dei g1 barra exid in descrizione passateci mi raccomando se volete vedere altri video e lasciate mi piace ovviamente per farmi capire che ne volete vedere altri a me ne resta altro che non serve salutarvi ci vediamo in un prossimo video stay angry stay angry stay angry ciao